melissa satta e carlo gussalli beretta sono stati paparazzati dalla rivista chi insieme prima in partenza da linate aeroporto di milano poi a madrid durante un brunch su una terrazza non sarebbero partiti da soli con loro c'erano anche altri amici come testimoniano alcuni selfie pubblicati sui social ma avrebbero trovato il tempo per dedicarsi alla loro conoscenza durante un aperitivo sulla terrazza di un hotel presumibilmente lo stesso nel quale hanno dormito il settimanale nel nuovo numero mostra le foto dei due volti noti al mondo della cronaca rosa di cui si è parlato recentemente per le separazioni dagli ex partner matteo berrettini e giulia de l'ellis chissà se ora si può parlare di loro come una nuova coppia carlo beretta e melissa satta si sono goduti un brunch su una terrazza di madrid dove sono volati insieme dall'aeroporto di linate anche se nascosti con cappello cappuccio e occhiali da sole la coppia non è passata inosservata quando si è trovata a linate per volare a madrid insieme ad alcuni amici la rivista chi nel nuovo numero mostra i due volti noti al mondo del gossip mentre si imbarcano sull'aereo poi direttamente a madrid e nella città spagnola avrebbero soggiornato nello stesso albergo con loro erano presenti anche altri amici ma per un giorno avrebbero deciso di staccarsi dal resto del gruppo e regalarsi un brunch all'hotel four season del resto con la dell'ellis era finita da tempo ha confessato un amico al giornale che aggiunge sulla nuova conoscenza si sono lasciati andare a confidenze dolci e amare tra risate e chiacchiere grazie a tutti 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 grazie a tutti